No, adesso non dico che uno non deve più... Non dico nemmeno che bisogna eliminare il rispetto, l'educazione, il calore. Casomai rendere tutto meno formale, meno finto. Naturalizzare i rapporti fin dai primi contatti collettivi. I signori insegnanti sono pregati di adeguarsi alle indicazioni etiche e morali suggerite dalla riforma ministeriale che entra in vigore a partire dal presente anno scolastico. Buongiorno ragazzi, anzi ciao. Sì, sì, va bene, mi piace, fate pure, parlate, parlate, sì, capisco, sì, sì, certo. Io sono Alberto, Alberto Vannucchi, il vostro nuovo maestro. Vi accorgerete subito che con me è tutto diverso. Niente autoritarismo, sono qui per lavorare su richiesta, anzi per imparare, sì, per imparare con voi. Tra di noi ci sarà un rapporto di lavoro collettivo e di amicizia. Scusate se faccio l'appello, so che sono cose superate, ma è per loro, sì, è per loro. Non si può fare meno di una certa prassi. Non si può fare meno di una certa prassi anche se tutti sappiamo che è una formalità. Dunque, allora, cominciamo. Angeleri Giuseppe. Presente. Tutti Angeleri Giuseppe. Bella questa. No, è geniale, sì, è molto spiritosa, sì, sì. No, scusate, io devo fare l'appello, non è che ci tenga particolarmente, per conoscersi, per sapere chi siamo, vero, eh. Allora, dai, da capo, di nuovo. Dunque, allora. Angeleri Giuseppe. Presente. Adesso non so cosa fare, voglio dire, ho capito, siamo tutti uguali, giusto, giusto. Oppure non sappiamo bene chi siamo, meglio, si senta. No, ma adesso, cioè, l'appello, io per esempio sono Alberto Mannucchi, uno dice, Alberto Mannucchi, presente? Cioè, l'appello che uno ti chiama e tu, presente. Chiaro, dai, dai, dai. Allora, su, da capo, su, su, ragazzi. Dai, dai, stai. Dunque, Angeleri Giuseppe. Presente. No, 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 ragazzi, no. Non so, ragazzi, no, non so, ragazzi. Non fate così. Silenzio, per Dio! Oh! Non volete capire? Sarò più chiaro. Io sono Alberto Mannucchi, uno dice, Angeleri Giuseppe, e io, presente? Giusto, no, io non sono, non so, non so. No, ragazzi, vi prego, adesso io chiudo il registro. Ecco, il registro non c'è più, lo metto via. Ecco, non siamo neanche più a scuola, non siamo neanche in classe. Cioè, siamo, siamo fra amici. Adesso io vi supplico, vi scongiuro. Ditevi. Chi è Angeleri Giuseppe? No, 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 no. No, 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 ragazzi, no! Sono io, Angeleri Giuseppe. Sono io, è ora di dirlo. Sono io. Prima o poi dovevo venire fuori, certo. Sono io, sono io! Angeleri Giuseppe, Angeleri Giuseppe, Angeleri Giuseppe, Angeleri Giuseppe... Pepe!